Milano non sente, è il nuovo singolo musicale di Ok Ba. L'idea nasce durante il periodo di lockdown per raccontare una storia di libertà, proprio nel momento di solitudine forzato mai vissuto prima, dove però ha prevalso la forza ma ancora di più l'amore. L'autore e compositore è Pasquale Demi Sposadino. Gli arrangiamenti e la produzione sono opera di Alberto Azzori, un progetto musicale tutto made in Sardegna. Il testo parla di due persone che si conoscono a distanza e si raccontano solo attraverso le loro voci a causa della pandemia, con un immaginario del futuro molto incerto ed un presente angosciante, protagonista una ragazza che fugge dal suo isolamento. Un brano profondo, tanto da toccare le emozioni di chi ascolta, oltre che ad essere una canzone di libera interpretazione personale. Il tutto contornato dallo sfondo del mare nel periodo estivo, una sorta di road movie realizzato da Alessandro Tanca. Il singolo uscirà sui canali social di Ok Ba il 26 giugno.